Educare, comunità in gioco, nuove rotte di cittadinanza, è il progetto con cui Anci Campania e Legambiente scendono insieme in campo con l'obiettivo di ristabilire le relazioni di cittadinanza tra bambini e ragazzi, nello scambio tra pari e per permettere la diffusione e la pratica dell'utilizzo dei beni pubblici. I parchi urbani, le spiagge, le aree protette, le aree verdi sono gli spazi pubblici che più sono mancati durante il lockdown e sono luoghi strategici per un rilancio delle relazioni sociali. Il progetto ha preso il via nei giorni scorsi con tutti sulla stessa barca che si è svolto presso il porto turistico di Agropoli, una delle quattro azioni previste dal progetto in partenariato tra Anci Campania e Legambiente. Presenti il delegato all'ambiente e alla protezione civile di Anci Campania e sindaco di Pellezzano Francesco Morra, accanto a lui il sindaco di Agropoli Adamo Coppola, la presidente di Legambiente Campania Maria Teresa e il comandante provinciale della Guardia Costiera. Sono davvero felice di essere intervenuto all'inaugurazione di questo interessante progetto formativo, ha detto il sindaco Morra. L'estate può trasformarsi in un periodo di crescita che viene trasmessa attraverso l'insegnamento di esperienze conoscitive di un certo livello. L'imbarcazione di Legambiente, che è attraccato presso il porto agropolese, si è trasformata in un museo del mare e della dieta mediterranea, diverse le iniziative messe in campo dall'Associazione Ambientalista, che vedranno il coinvolgimento di ragazzi e ragazze in spazi di gioco, informazioni e sensibilizzazione sugli stili di vita eco-compatibili e sul rispetto dell'ambiente.